Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siamo tornati qui con Crash Bandicoot 2 pronti per fare il boss, il primo boss. Andiamo subito. Prima Crash Bandicoot. Seconda Transpacca. E' terza fatta. Bene, il boss è terminato. Siamo al secondo piano del gioco. Quindi iniziano i livelli un po' più difficoltosi. E quindi dal prossimo appuntamento partiremo con Snow Beats. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare ai 200 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Bye bye!